Sì! Ma che cosa c'è più avanti? Forse... Un ingorgo stradale? Beep beep! Eh? Perché tanta fretta? Perché c'è una gara in corso! Ma noi stiamo facendo una gita! Eh... su una pista da corsa! Hai ragione, Coby! Credo proprio che non sia il posto migliore per una gita! Una gita deve essere divertente! Sì! Magari possiamo farne una insieme? Dai, andiamo! Sì! Una gita avventurosa! Qualcuno ha detto avventura? Attacca, Ziki! Un'avventura ha inizio Dai, vieni anche tu Ti diamo solo un indizio È l'avventura che ti piacerà di più Ti piacerà, ti piacerà Ti piacerà, ti piacerà Ti piacerà Un'avventura ha inizio E non stiamo nella pelle Unisciti a noi Perché se vuoi Vedremo tante cose veramente Tante belle Ehi ragazzi, aspettatemi! Andiamo in città! Forza, tutti a bordo dell'Eddy Express! Andate in qualche luogo interessante? Oh, ma certamente! Stiamo andando a... A proposito, dov'è che andiamo? Mi sfugge Comunque io sono l'autista Siete mai stati alla spiaggia rimbalzante? La spiaggia rimbalzante? Sembra un posto in cui si rimbalza Spiaggia rimbalzante sia! Dai, andiamo! Sarà davvero meraviglioso! La spiaggia rimbalzante è facile da trovare Dovete proseguire per questa strada Dai, prendere la prima a sinistra Avete capito? A sinistra! Non girate a destra Poi attraversate il ponte In fondo alla strada Finché non vedete la spiaggia rimbalzante? Sarà un vero spasso Hai capito? Capito Prossima fermata Spiaggia rimbalzante! Ricordate! Prendete la prima A sinistra! A sinistra! E adesso? Cosa aveva detto il pavone? Ehi, non guardare me Pensavo che lo stessi ascoltando tu Beh, io ero impegnata Qualcuno ha sentito le indicazioni? Io no Ragazzi, mi è venuta un'idea Strada, stradina Facci capire qual è la via giusta da seguire Da questa parte Gira a destra D'accordo Eddie è pronto Via! Sì! Ah!